Oltre Po Voghera parte la campagna abbonamenti per la stagione calcistica 2016-2017 e se fai l'abbonamento partecipi all'estrazione di un viaggio di 5 giorni per 2 persone per informazioni contatta ora al numero 0383 366215 o scrivi a oltrepovogheramarketing.com Buon venerdì a tutti, benvenuti a Vox Populi anche oggi 3 persone fermate in maniera casuale per le vie di Voghera risponderanno alla domanda sull'argomento del giorno Il referendum costituzionale si farà, lo ha deciso lunedì la Corte di Cassazione che ha ammesso la richiesta Gli elettori saranno chiamati alle urne nel mese di novembre a votare a favore o contro la riforma Boschi-Renzi Lei andrà a votare? Sì, assolutamente sì Dipende dal mio lavoro, se riesco sì Sì, a votare ci vado sicuramente perché è giusto ed è un diritto di tutti poter esprimere il proprio giudizio che sia giusto, che sia sbagliato, indubbiamente Trova questo referendum utile all'Italia in questo momento di crisi? No, no perché penso che in Italia ci siano altri problemi adesso che affrontare la riforma costituzionale hanno avuto tempo per farlo anche tempo fa o potrebbero rimandarlo semplicemente? Non vedo altre vie purtroppo o facciamo questo o cosa si fa? Questo è il problema Secondo lei un risultato negativo al referendum potrà davvero mettere in dubbio il futuro del governo Renzi? Spero di sì Spero di sì Spero proprio di sì Beh, più che altro perché mi riallaccia a quello che ho detto prima ci sono problemi in Italia superiori che alla riforma costituzionale, credo solo per quello dovrebbero affrontare altri problemi che solo e semplicemente alla riforma costituzionale cioè pensare solo al Parlamento, ai senatori, alle regioni adesso penso che non è che ne siano inutili è che è un problema secondario Renzi non darà le dimissioni non farà la fine di Camero non è che per questo io faccia festa però è così e ce lo teniamo così d'altronde cosa offre la sedista sul mercato in questo momento? Chi c'è? Quelli vecchi come me oramai sono stati rottamati ed è bene così Giovani Chi abbiamo? Ci vatti? Speriamo Ma per ora Quindi lei come giudica le persone che invece per scelta non andranno a votare? Non è giusto giudicare le persone che non vorranno andare a votare perché è una scelta personale però in ogni caso chi non vota poi è un voto perso per cui alla fine sarebbe più giusto poter votare è una cosa, è una scelta più giusta, più logica però i diritti, come si dice, le scelte degli altri non vengono poi messe in discussione perché ognuno ha la libertà di fare come la voglia se no è finita la democrazia, indubbiamente No, non mi piace questa cosa qua di non andare a votare c'è gente che è morte perché tu possa andare a votare almeno per il rispetto a quella gente là vai a votare vota quello che vuoi e vota quello che vuoi anche no, non è un problema però vai a votare, che se perdiamo questo diritto noi perdiamo una parte dell'umanità che ci ha dato una mano per arrivare a questi punti ed è sbagliato, completamente sbagliato dov'è che non si va a votare? questa è la domanda dov'è che non vai a votare? nei paesi dittatoriali che siano di sinistra o di destra giusto o no? per cui io voglio andare a votare non so perché dico dipende poi, bisognerebbe vedere individualmente le persone perché non vanno a votare avranno un loro motivo perché non vanno a votare non li critico e quindi non mi esprimo lei cosa ne pensa invece dell'utilità che questo referendum può avere in un momento di tale crisi per l'Italia? lo trova utile? bisognerebbe valutare i diversi punti di vista sicuramente tutti i giorni vengono cambiate le leggi e questo ti porta di fronte a situazioni sempre di cambiamento per cui bisogna un attimo come si dice adeguarsi a quelle che sono le condizioni vere e reali che poi si stabiliranno come si dice tutti quanti navighiamo un attimo in quello che è il sì e il no forse magari sarà giusto sarà sbagliato sono difficoltà di queste cose difficili da fare le scelte anche perché quando poi si fanno le scelte non è la scelta di una persona ma tante persone messe insieme che realizzano un punto di inizio un punto della fine di questo argomento però alla fine poi sono i fatti che contano